La filiera del riciclo è un sistema complesso in cui intervengono diversi attori. Si parte dai produttori di imballaggi che mettono gli imballaggi sul mercato, si procede attraverso i comuni e i cittadini che fanno la raccolta differenziata, Corepla che effettua le attività di selezione e i riciclatori che prendono gli imballaggi in flussi selezionati e li trasformano in materie prime e seconde che poi immettono sul mercato. Questa catena funziona se tutti gli annelli sono connessi, cioè se ogni attore della catena tiene conto delle esigenze di chi lo precede e di chi lo segue. Se questo non accade, la catena si interrompe, quindi è fondamentale che i produttori di imballaggi realizzino degli imballaggi che siano compatibili con le tecnologie di selezione e riciclo esistenti in maniera tale da essere selezionati in flussi omogenei che possono interessare agli aziende riciclatrici. Allora, la gestione del fine vita degli imballaggi in plastica avviene attraverso il principio di responsabilità estesa del produttore, il che vuol dire che il produttore si fa carico dei costi legati alla gestione del fine vita dopo che il prodotto è diventato rifiuto. Perché questo avviene? Perché il sistema è in perdita, non potrebbe funzionare da solo. Quindi il contributo ambientale che i produttori di imballaggi pagano sui imballaggi che mettono sul mercato serve a coprire il deficit di catena che sostiene le attività di raccolta, selezione ed avvio a riciclo.